Buongiorno mondo, oggi ci troviamo a un festival molto molto interessante con musical life in terza e di famosi Moldavia. Qui alle mie spalle vedete il palco stravizzato e qui davanti a noi c'è arrivato il menù il menù di frutti di mare, sarebbe il primo festival di frutti di mare organizzato qui in Moldavia. Abbiamo cuochi da tutto il mondo. Questo è il menù che abbiamo preso e adesso vogliamo vedere cosa c'è dentro. Buongiorno 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 Sì da che ciao davanti, sì no Sì weyè, 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 di chi Sì sì no, di poter Èvoca una cosa che ha detto D'idea come qualcuno Eh, che secnde anche noi Che vedi le persone E tutti i nostri sono Poi i nostri sono Che se zura, non è un'altra Che non è la sua Che non è la sua Grazie per la visione